Immagini come questa sono all'ordine del giorno. Chi non cammina a testa bassa leggendo il cellulare ma diventa un serio pericolo se lo si fa mentre si attraversa la strada, magari distratti senza guardare se c'è il via libera o meno ai pedoni. Di qui questa Red Safe Life, una barra luminosa rossa salvavita montata lungo il marciapiedi e collegata ad un dispositivo ad uno degli incroci più trafficati a Bari, e cioè tra Corso Vittorio Emanuele, Lungomare Nazario Sauro e Corso Cavour. Una sperimentazione, la terza in Italia dopo Padova e Roma, voluta dall'amministrazione comunale. Quando c'è il rosso per i pedoni, contemporaneamente c'è una banda rossa che viene proiettata in corrispondenza del cordolo e questo permette a coloro i quali sono intenti a guardare il telefonino di vedere la banda rossa perché si incrocia con la loro vista. Verosimilmente verrà omologato da qui ai prossimi mesi e serve proprio per evitare ai pedoni distratti di attraversare in corrispondenza delle strisce pedonali in assenza del verde per i pedoni. L'intenzione dell'amministrazione De Caro è montare le barre luminose in altre zone cittadine. Altre zone pedonali attraversate molto da pedoni sono Piazza Moro, la stessa via Capruzzi in corrispondenza della stazione. Il comune sta puntando moltissimo sull'innovazione tecnologica dei semafori. Siamo forse il primo comune d'Italia che adotta in maniera massiva delle lanterne semaforiche in alluminio. Abbiamo implementato i nostri semafori con i sistemi sonori per i non vedenti.